Questo video riguarda i migliori tre forni da incasso. Il vincitore della qualità è il Bosch HB A5360. Cucinare in modo più semplice è possibile grazie alle ricette automatiche, fino a 10 ricette preimpostate. Goditi la cottura con le sue 7 funzioni disponibili. Con il sistema di riscaldamento 3D professionale cuocere su 3 livelli contemporaneamente. Pulizia comoda con il pannello posteriore autopulente. Le clip rails consentono di cambiare l'altezza delle guide a un livello. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Electrolux EOF4P0. Sperimenta una cottura uniforme grazie alla cottura multilivello. La resistenza circolare aggiunta consente di ottenere una cottura uniforme su 3 livelli. Mantenere il tuo forno come è facilissimo grazie alla funzione intelligente di pulizia pirolitica questo sistema autopulente riscalda il forno fino ad una temperatura che trasforma il grasso e tutti gli altri residui in cenere. In questo modo, dovrai soltanto pulire il fondo del forno con un panno umido. Il display a LED suggerisce la giusta temperatura adatta per il tuo piatto. Puoi comunque regolare la temperatura manualmente e impostare l'ora di inizio e di fine. Il nostro sistema fa circolare il calore nel forno. Assicurando una cottura uniforme tutto senza dover girare gli alimenti la nostra tecnologia fa riscaldare il forno velocemente. Grazie alla nostra teglia XL puoi cucinare quantità ottimai in una sola volta, aumentando la portata delle tue golose creazioni. Il vincitore del premio è l'Electrolux EO H2. La ventola distribuisce il calore in tutto il forno, permettendo ai tuoi piatti di cuocere velocemente e uniformemente. Adesso potrai cuocere biscotti ottimi senza doverli girare a metà cottura. Il nostro forno si pulisce e il vapore scioglie il grasso ostinato e i residui lasciati sulle superfici. In questo modo potrai ottenere facile una pulizia naturale. Il nostro contaminuti ti aiuta a tenere sotto controllo le ricette, basta impostare il timer e ti avviserà allo scadere del tempo, perché anche un minuto può fare la differenza. Dalla pancetta croccante alla mozzarella dorata, ottieni di dal metodo di cottura grill. Ottimo per cucinare ali di pollo croccanti o per formaggi che si sciolgono in bocca. Dedicati a preparare morbidi cupic per la merenda oppure un poplettone per una cena con gli amici, perché spazio significa ricette squisite. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.